Ah ah ah, ma cosa so fare degli anni da me? Aiuto, aiuto! Ciao a tutti ragazzi, sono io il Cree, benvenuti in questo nuovo video. Oggi tiriamo giù la trippa, la panza. Oggi eliminiamo i grassi accumulati Natale e Capodanno. Altro che Jill Cooper. Siete pronti ad allenare il vostro addominale con gli escizi preferiti della Jill? Nintendo Wii Forever. Vi consiglio un abbigliamento consono, cioè delle scarpe da corsa, belle e comode. Una semplice tuta, fa lo stesso, intanto siete a casa chi vi vede. E un po' di buona volontà per iniziare. So che è dura, soprattutto lì inizio però. Chi bello vuole apparire, un poco deve soffrire, dicono giusto? Iniziamo con l'equilibrio sulla gamba. Buonasera. Cominciamo l'allenamento di oggi? Facciamo ora qualche esercizio di equilibrio su una gamba. Solleva la gamba sinistra e stai in equilibrio sulla destra. Tieni fermo il corpo mentre muovi la gamba e il braccio. Cerca di mantenere il baricentro all'interno dell'area gialla. La tua gamba trema un po'. L'esercizio quotidiano aiuta a mantenersi in forma. Ora solleva la gamba destra e fai l'equilibrio sulla sinistra. Prova a contare ad alta voce. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La tua gamba trema un po'. Ottimo. Hai un equilibrio eccellente. Andiamo con gli affondi. Sali sulla Wii Balance Board e sposta indietro la gamba sinistra. La barra rossa visualizza la pressione del piede. Cerca di far salire la barra rossa oltre la linea blu. 1, 2, 1, 2. Cerca di mantenere il baricentro all'interno dell'area blu. Prova a contare ad alta voce. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Estensioni laterali. Rimani in appoggio sulla gamba destra. Tieni fermo il resto del corpo mentre muovi la gamba e il braccio. Cerca di mantenere il baricentro all'interno dell'area gialla. 2, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2, 1. Ma posso fare degli allenamenti? Aiuto, aiuto. Ma posso fare degli allenamenti così io? Certo che non mi è mai successo di fare esercizio mentre vengo violentato da un cane. Vabbè, per tutto c'è la prima volta e dicono giusto. Ora facciamo il Lula Hop. Il Lula Hop Ora facciamo un po' di yoga. Facciamo la posizione dell'albero. Respira lentamente mantenendo la posizione. Stabilizza il varicentro. Cerca di mantenere il varicentro all'interno dell'area gialla. Il tuo corpo oscilla leggermente. Allunga bene la colonna del pebrale. E ora ripetiamo la posizione con l'altra gappa. Respira lentamente mantenendo la posizione. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate like. Se non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale. Condividete con i vostri amici. Io vi saluto. Ho il fiatone. Vi mando un bacione. Alla prossima. Ciao!